Grazie Presidente, anche qui si tratta di un emendamento che si aggiunge a un obiettivo che era già inserito all'interno del documento unico di programmazione, dove era già previsto l'evoluzione della piattaforma di Roma Capitale e degli strumenti di partecipazione all'interno del portale istituzionale di Roma Capitale e per cercare anche di coordinare meglio con le ultime deliberazioni che sono state approvate su questa materia, abbiamo presentato questo emendamento per richiamarle precisamente così da fornire un maggior dettaglio, una maggiore precisione a quello che poi è lo sviluppo dell'obiettivo stesso e quindi dell'attività che dovrà essere eseguita dagli uffici e quindi voteremo favorevolmente. Grazie.